La battaglia degli agricoltori e degli allevatori sardi, da ieri riuniti in un sit-in nel molodogana del porto di Cagliari per protestare contro le politiche dell'Unione Europea, considerate penalizzanti per l'intero comparto, continua. C'è chi ha passato la notte a bordo del proprio trattore e furgone, riscaldandosi di tanto in tanto a turno accanto a un falò, chi ha deciso di tornare nel proprio paese, lavorare, per poi tornare nel capoluogo alle prime luci dell'alba. Una lotta a oltranza che dovrebbe durare fino a giovedì, forse anche di più, dichiarano i manifestanti a corsi da tutta la Sardegna, che ora più che mai, stanchi di una situazione annosa, diventato ormai ingestibile, vogliono far sentire la propria voce. Cerchiamo oggi di trovare una soluzione, di muovere il corteo, perché la politica, nonostante oggi, vediamo se ci dà qualche risposta, se no muoviamo anche noi un corteo. Quindi non solo blocco delle merci, pensate di fare un qualcosa di più grande? Sì, dobbiamo creare veramente una cosa eclatante per darci una risposta all'Unione Europea. Ad esempio? All'esempio rallentare un po' i traffici, sempre con le norme, però cercare di fare un pochettino di confusione. Oggi, seconda giornata di protesta, una piccola delegazione di agricoltori e allevatori è stata ricevuta da Argea, agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura, per chiedere spiegazioni e fare il punto sulle pratiche e sugli aiuti per le campagne sarde in ritardo di alcuni mesi. Stiamo chiedendo che alle aziende venga integrato i soldi che ci dovevano dare, che non ci hanno ancora dato, che ci diano benessere animale, di finire il primo pack, quindi siamo tutti insieme. Una battaglia destinata a diffondersi. La marcia dei trattori ha raggiunto il porto industriale di Oristano, mentre venerdì alle 10 è prevista una protesta anche a Muros, in provincia di Sassari. Non possiamo lavorare i terreni perché il gasolio è troppo caro, i concimi sono troppo cari, tutto ciò, il ferro è caro, quindi tutto ciò che noi andiamo per mandare avanti la nostra azienda, andiamo a comprare, oggi non possiamo più comprare niente. E quindi a questo punto l'agricoltura viene a morire. Noi vogliamo fatti, non parole.